Ma perché i miei cachi sono venuti così piccoli? Perché il mio albero non è un cachi, ma un mini cachi! Per la precisione si chiama Diospiros lotus, mentre il caco che fa i frutti normali, diciamo i cachi della dimensione giusta, si chiama Diospiros cachi. Il frutto è identico al cachi, ha lo stesso colore, la stessa forma e la stessa consistenza, però è molto più piccolo, grosso come quello di una nocciola. Matura in inverno, infatti adesso siamo a dicembre, i frutti sono ancora attaccati alla pianta e non sono buoni da mangiare crudi. A meno che il frutto è davvero molto maturo, però è ideale per fare delle confetture. Oltretutto è un albero particolarmente rustico, tanto che cresce in tutta Italia ed è utilizzato come porta innesto del cachi, perché rende gli alberi ancora più forti e vigorosi.